Bella a tutti ragazzi, qui è M47 Teo Official Channel Bentornati in questo nuovissimo video di DreamLeague Soccer Ricominciamo un'altra stagione Dopo aver vinto il decimo campionato di fila Con questa squadra Diciamo che E' stato un po' un bel culetto Allora, ho perfezionato l'attacco Mi sono comprato Aspas 100 E poi mi sono comprato pure Belchiori Dai che è delle mie parti Non sto perfezionando pure C'è 79 in totale e c'è Platino Bonus Scusate per il periodo di assenza ma C'ho un po' dei problemi con il mio nasino Allora, ospite Ma sempre perché C'ho un po' dei problemi con il naso Cioè, tutto pieno, so Cominciamo con questa nuova stagione, dai Vai Ragazzi, gol, 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 gol Apre la marcatura di questa nuova stagione Cristiano Ronaldo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Prendete e parla Zuma Zuma Terrifici tackle Poore attempt to win the ball He slid for the ball But missed Vasquez Prendete e parla Prendete e parla Prendete e parla Contra il Naccia che C'è tanto provoci ma se non lo chiede perchè non lo chiede perchè fai così cazzo Salah raddoppia Mohamed Salah raddoppia raddoppia raddoppio raddoppio l'isola a questo punto si espelrono aspas cioè è un colmo vieni ok primo tempo allora chi possiamo mettere dentro di buono allora vediamo che salvio ci salva con un corner ok che fai che fai buono 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 ci poteva stare ecco io salvio è buono sul colpo di testa ragazzi è buono tanto cioè io me lo metto sempre cioè è è non posso sbagliare è 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 l'ho 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 è un cambiamento attuale è un cambiamento attuale per l'opposizione ancora un pozzo di questo giocatore un piacere determinato il giocatore non è felice ma sembra che si tratta un pozzo un pozzo ronaldo ha dovuto admiare un'acquilla come questa buona scelta qui ronaldo e lì è bene bene buona 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 del Piero è del Piero è buona 5 a 0 5 a 0 5 a 0 bellissima partita oh partita proprio aspas buono io intanto siamo arrivati in testa siamo arrivati in testa allora noi ci prendiamo il premio e poi andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo sul mercato allora 78 78 monete di premio allora chi ah eh non è il mercato che mi piace c'è qualcosa di nuovo c'è in basso allora oh carvalho wellington carvalho mamma mia che ricordo non ce la faccio allora andiamo qua ma 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 vabbè allora